Lo stato di salute dei nostri ponti e dei nostri viadotti non ci lascia tranquilli. Anni di mancata o scarsa manutenzione hanno finito per indebolire strutturalmente queste importanti opere viarie, spesso unico punto di collegamento e passaggio obbligatorio per i residenti delle aree interne della nostra regione. Sulla questione interviene Maria Elena Senese, segretario generale della FENE alla UIL Calabria. Da tempo stiamo segnalando questa problematica, da sempre chiediamo l'avvio di una seria campagna di ripristino e manutenzione di queste opere pubbliche che sembrano cadute nel dimenticatoio di una classe dirigente troppo spesso in altre faccende affaccendata. È necessario procedere, dice la Senese, all'avvio di una seria campagna di manutenzione ordinaria e straordinaria di ponti e viadotti che purtroppo stanno mettendo in risalto i danni di un tempo troppo lungo di incuranza e indifferenza e che riduca i rischi per gli automobilisti e ripristini un normale stato di sicurezza infrastrutturale. Alla regione Calabria, poi, chiediamo di farsi interlocutrice pressante nei confronti di tutti quegli enti che avrebbero dovuto avere a cuore la manutenzione di queste infrastrutture viarie. La nostra regione non può attendere, non può finire ingabbiata in una campagna elettorale senza fine. I calabresi pretendono che i loro problemi, dalla manutenzione delle infrastrutture viarie all'erogazione di qualsiasi tipo di servizio, vengano affrontati e risolti.